che lo giuro la stessa testa per dire io ma tu non hai visto qualcosa di diverso sopra che brutta la sensazione no no vai in là vai in là l'ho vista più in là l'ho vista lì per entrare in quella stanza a destra qua si ok tutto sto verde te lo giuro mi sono cagato addosso c'è di nuovo dove è marcio sei qui sei qui dentro eh non lo so si ferma ferro l'avaggio ho sentito il ferro voglio metterla dove l'hai vista lì eh mettila dove l'hai vista lì esatto suona ragazzi suona suona raga questa cosa non è normale no però state lontani state lontani state lontani paura guarda 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 che brilla guardate l'emm1 guardate l'emm1 l'hai sentito minchia ho sentito comore porca vaca di lingua bravo quello così fai una cosa topo vai lì dentro lasciatene andare da sola lasciatene andare da sola lasciatene andare da sola lasciatene andare da sola posso parlare con te? pia rosso si si mi porto ancora lo strumento più vicino sei qua vero? passi sei qui vero? non devi avere paura di essere venuti qua per fatti del male prego rispondimi sei una donna se si puoi avvicinare questo strumento bebi che cosa? bebi ci sono ancora? le tende le tende? le tende? c'è proprio un po' un po' bravo pensato alla stessa cosa pensato alla stessa cosa Paolo hai chiuso tu la porta quale porta? questa? questa? si si attiva la posta io ero inquadrato su Paolo però non stavo guardando lo schermo dunque ce l'ho in camera sicuro vediamo si muove per la porta la via questa? si si attiva la posta e dico che si è chiusa prima era aperta quindi non puoi stare dentro no anche perché sono chiuse le finestre si si sono le finestre ce le sono chiuse ce le vedo? sono chiuse si 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 chi abita qua? esatto una donna la figata del Rempod e che fa rumore quindi lo sentiamo ah ok brutta chi sei? una donna guardate giù guardate giù chi sei tu? chi sei tu? chi c'è giù? che cazzo stai dicendo cazzo hai chiesto qualcosa? hai chiesto qualcosa? un qualche fatto? non lo so era di ferro, qualcosa di ferro Non c'è niente. Chi c'è giù? Spegni un po' la luce. Proviamo a spegnere la luce. Perché io quando l'ho vista, mentre venivamo su... Era il buio. Era il buio? Sì. Posso sapere chi sei? Certo. Eh, dimmi il tuo nome. E' casa tua questa? E' casa tua questa? Sì. Cosa sono rimasti in due? Cosa sono rimasti in due? Cosa sono rimasti in due? Sto brillando, sto brillando, sto brillando. Ok, l'ho immaginato con tutti gli altri di noi. Fai una cosa, prendi l'energia da quegli strumenti per terra, usala per comunicare con noi. Noi non vogliamo tanto del male, sai? Ti stai nascondendo da qualcuno? Puoi fidarti di noi. Hai paura di qualcuno? Cos'era? Guarda, 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 guarda. Quello che continua a dire, raga, sei rinchiusa da qualche parte? Sì. Scusa, mi ho risposto io perché mi sono proprio sentito... Ah, ok. Ho proprio detto sì, è così. Sta battendo perché ci vuole guidare da qualche parte. Cerchiamo di... Puoi continuare a battere? No, grazie, dai! Arriva di là! Arriva di là! Cos'è? Mi sono cagata addosso! Scusatemi! Mi sono cagata addosso! Mi sono cagata addosso! Aspettate! E' sopra allora? Adesso era da sopra! Però perché la Black continua a dire sotto, 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 sotto? Ma... O lei si è nascosta su? Eh! Scusami, ma se il male fosse al piano basso, basso, basso... Tu stai in alto, in alto, in alto! Alto, alto, alto! Ok, grazie! Calma, andiamo! Sopra! Grazie! Volevi andare su, voglio ancora capire un attimo qua! Cucina! Cucina, sì! 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 Questa è la cucina, cioè non c'è... Cucina! Cos'è? Eh, poi è una cartolina di una casa di riposo! Oh, ca... Nooo! Ah! Ah! E quella cos'è? Aprila! Cos'è? Un articolo di giornale! Tentazioni principesche! Ma cos'è? Ma che senso? C'è scritto quello! E' un articolo di giornale! Però... Che cos'è? Cosa c'è? Cosa c'è che viene? Raga, mi hai capito qualcosa sulla testa! Non c'è niente! Non c'è solo una riferita, poi basta! E' incollato, raga! Allora, tu mi stavi riprendendo? Eh sì, mi stavo riprendendo tutti! Mi hai capito qualcosa sulla testa, raga! Quale tipo? Penso di... Non so come è possibile, ma un pezzo di... Ci lancio una... Di questa cosa qui! Si! E' vero! Ma è perfetto il soffitto! E' infatti! C'è niente? Niente! Continuiamo il giro! Si! Ok! 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 Guarda! Guarda! Questi bagni mi mettono di un'angoscia che metà basta! Si! Ho detto la stessa cosa prima! Guarda! Proprio questa rosa così! Proprio! Raga! Aspetta! Sì! 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 Brilla! 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 State fermi! Sì! Mi vediamo! Sì! Mi ha presenito qualcosa! Ragazzi! Dove? Ziamo sulla porta! Cora! Qual è? Che è? Dove? Siamo sulla porta! Siamo sulla porta! Siamo sulla porta! Dimi qua! Dismi qua! Siamo sulla porta! Cos'è? Un'anta? Una porta? Un'anta? Sei mossa. Ok, ok. Fermi, fermi. Fermi, calma. Maledi, presa? Sì, sì, l'ho presa tutta. Ok, calma. Sei mossa. Te l'ho detto che c'era qualcosa. Io avevo sentito un umore. Fatemi fatemi. Se sei la donna di prima, perché non la muovi di nuovo? Raga L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista Questa L'ho vista Ho scattato Bolo ho scattato Mentre si muoveva Ho scattato Guarda 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 Brilla Brilla Raga È qua È qua Fè Bisogna solo Lo so Bisogna solo capire Da chi sta scappando Perché ha voglia di comunicare Guarda 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 Mentre si chiudeva Che allone bianco Guarda lì Madonna Mentre si chiudeva Io ho scattato C'è qualcosa di brutto Ho scattato Mentre si chiudeva C'è un allone bianco Di fianco alla porta Qua Così qua Per favore Possiamo andare sopra Andiamo sopra Voglio andare sopra Ma questa è Ok adesso Ho più paura di prima Vedi che sembra una soffitta Sembra una manzana Che era di ammazzata Sì 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 Si è ammazzata Oddio Raga attenzione Raga Cacca di piccioni Non ti lo volevo dire Torca Ha avuto un capogiro Ha potuto successo Eh non lo so Ho avuto un capogiro Aspettate raga Te lo giuro L'ho presa al volo È brutto Qua è tutto Raga Tutto Ho proprio avuto una sensazione brutta Mentre ho avuto il capogiro Sai cosa mi è venuto da fare Eh da buttarti giù Sì Qualcuno ti ha spinto L'ho presa al volo L'ho fermata con la mano Te lo giuro C'è qualcuno di molto cattivo qua Ho il batticuore Magari Saliamo ragazzi Eh Non è che è salito Oh pure a me ragazzi Qualche brutta orientazione Vedi Adesso lo so per l'altro Sei lì dentro Io non riesco ad entrare No io pure Io non riesco ad entrare raga Scusatemi No non ci riesco Ok aspettate Non riesco a andare da nessuna parte Aspettate Vai brutto Mamma mia raga Marcio No ma è il capogiro Uh Tressiona la testa Guarda Girati lì C'è dormito qualcuno lì C'è dormito qualcuno lì Verga È vero C'è dormito No raga Raga fermi Sì 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 Forse qualcuno ha fatto qualcosa qua Raga 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 brutta Questa è una maligetta Raga raga Occhio Paolo Ti sembra una poltrona quella lì Sì sì Mi sembra una poltrona Cioè è fatta una poltrona Perché ci sono cose di ragazzini Perché Non lo so Ci sono libri di ragazzini È pieno Di piccoli Pieno Di fumetti Topolino Fumetti C'è qualcosa di strano Ma raga Io ve la dico C'è C'ho la sensazione Che è stato rinchiuso qualcuno Qualcuno Qualcun ragazzino Qualcun ragazzino C'è qualcosa che Non lo so È strano Perché Guarda C'è come se Abbiamo incontrato Un'entità maligna Al primo piano Qui sotto invece C'è una signora anziana C'è qualcuno qui In questa soffitta Che vuole comunicare Con noi Ho scadato due foto Una Nel cura all'altra È qualcosa che si sposta Orbs qua Guarda Guarda lì Lì Enorme Guarda lo scatto dopo Qualcosa che si sposta Vedi 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 sta roba bianca E non è un riflesso La torcia Vedi La torcia non crea Quel riflesso Guarda In nessun modo E c'è un orbs lì Sopra la poltrona Temperatura Temperatura Toccalo così Capiamo che sei lì Urca miseria L'ho sentito Sei il male? Sei un'entità maligna? Sei un demone? Sei un bambino Non so Brillato E io su quella Che stazione All'interno C'è stato un bambino Chiuso Mi sembra che tutti Hanno paura A parlare Tutti hanno paura Di quello che c'è sotto Come la signora Continua a dire sotto Tu sai cosa c'è sotto Questo palazzo? I bambini hanno paura Posso dirvi una cosa Forse è arrivato Un momento di andare giù 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 Un momento di andare giù